Musica Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo specialissimo e bellissimo unboxing Matreius fai sentire la scatola Perfetto abbiamo una scatola con un contenuto speciale anzi probabilmente l'avete già visto dal titolo Però andiamo a vedere proprio quell'articolo lì figosissimo eccetera eccetera Quindi Matreius partiamo subito con l'unboxing Fai prima zin di qua poi fai zin di là e poi fai ziu Prima zin da un lato poi zin da un lato poi ziu 350 anni per aprire una scatola Una cosa Bene Matreius Ponimi subito quello che c'è all'interno di questa scatola Che neanche tu sai che cos'è Eh no purtroppo no Beh apri 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 Vediamo un po' Cos'è Cos'è Non lo dico perchè l'hai già detto te Però si Non so cosa sia Ah è questo Ma questo è giunta a carta Siete pronti amici Ecco qua Guardate Ma Matreius via le teste Che se no non mette in Aspettate amici Mi copro con la tenda Eccolo qua Vedete questo qua E che cavolo è sto coso Che cos'è questo coso C'è lì da sotto lo apro Che è uno Magari non lo sa neanche che cos'è Non si apre Non si apre Da lì davanti Semplicemente Allora Allora Ecco qua Ecco guardate qua Guardate con la scritta Mi ci sono imboscato indietro qua Ma si vede Guardate Ok vedete c'è scritto try me Guardian of galaxy Cioè guardiani della galassia Eccetera eccetera E questo è il personaggino Guardate che bello Che bello Tutto gommoso Eccetera eccetera E funzionante amici Adesso mi ho messo fuori sfoco Perché Aspettate eh Guardate E funzionante amici Andiamolo subito a vedere All'opera Dancing Groot Questo qua è Groot Personaggio che vi faccio vedere In qualche riquadro qua Vi faccio vedere chi è Groot E se avete seguito il film Guardiani della galassia Sapete benissimo che Groot Prima era enorme Poi diventa una piantina piccolina Perché praticamente Rischia la morte Però diventa una piantina piccolina E questo è Groot piccolino Fantastico Adesso lo andiamo a provare assieme Batterie ci sono già Secondo me no Prendiamo un cacciavito E andiamo ad aprire Cacciavito E andiamo a cacciavito ovviamente Ma cacciavito per gli amici E andiamo ad aprire Sto scoperchio Ho detto anche coperchio Per gli amici Ci sono le batterie amici Fantastico Ci sono le fottute batterie Andiamo a vedere se sono messe giuste Eh sì Sono messe giuste Quindi potrebbe funzionare anche Non mi sembra Non sono messe bene tutte Ok Abbiamo messe bene tutte Anche le batterie dentro E' fantastico amici Dove trovate ancora le batterie dentro? E' una cosa Poi magari durano due minuti Però ci sono Ok Mettiamolo Qua c'è un piccolo selettore Non so se lo vedete Qua in basso E c'è scritto praticamente Demo on Off Mettiamolo in demo Guardate qua Sei pronti? Vai Ed è fantastico Posizione on Praticamente Adesso in demo Se lo mettiamo in on Poi altoparlante qua E si sente di brutto Molto bello Guardate che bello Ed è come praticamente il film E adesso in posizione di on Praticamente Matreius Continua a ballare Praticamente si balla Balla anche E voi praticamente Lo lasciate sulla scrivania Ogni ogni tanto O parte con la canzone O parte a ballare Vedete? Tipo con rumore Ogni tanto Mi parte Poi più il rumore fate Più parte E più se c'è veramente casino Lo inizia a cantare A parlare E' eccezionale sta cosa Quindi questo era l'unboxing Tematreius Tienilo in mano Troppo bello Bellissimo amici Bellissimo Questo è l'unboxing Di questo bellissimo Del Groot Piccolo Fantastico Comunque vi ho messo Delle foto Vi ho messo dei video Sicuramente Nel mentre del video Così da farvi vedere Anche com'è Quindi Per questo unboxing Rapido Veloce Ma bellissimo E' tutto Tra l'altro Se lo volete trovare Lo trovate in giro Su internet Un po' Dove volete Sui siti Classici siti di acquisto Più o meno Sui 20 euro Qualcosa di meno 20 euro Quindi non costa neanche tanto Ora Ora Ok Possiamo anche spegnerlo Per i saluti Te spegniti Ok Possiamo farvi con la musica No Da Amaruj E da Ma tre Ci vediamo al prossimo Tutto video Ciao a tutti Ciao Ciao Amici Ciao 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 Ciao